Un progetto da 100.000 euro per un connubio tra pubblico e privato grazie all'iniziativa Art Bonus del Ministero dei Beni Culturali e che ha visto la collaborazione tra soprintendenza e Università di Salerno. È quello che prevede il restauro e lo studio di migliaia di monete recuperate dagli scavi della città di Elea Velia. Nel corso degli anni sono state portate alla luce circa 10.000 monete, un patrimonio inestimabile con l'obiettivo di metterlo in mostra in una esposizione permanente nel Museo archeologico salernitano. Velia si può dire che è stata la città che ha introdotto gli usi monetari in Campania, infatti dalla fondazione di Velia dal 540 in poi si è cominciato ad introdurre la pratica monetaria che fino allora non esisteva ancora in Campania e da allora ininterrottamente Velia ha prodotto moneta fino alla tarda età repubblicana. Trovare monete nello scavo e studiarle ha grosse potenzialità sul piano scientifico perché ci consente di poter ricostruire la vita economica di questa importante città di Parmenide. Un intervento importante che segna ancora una volta la strettissima sinergia, l'importante collaborazione che si è creata a Salerno con l'Università di Salerno in vista di uno studio, di un restauro che è propedeutico a uno studio approfondito e che ci auguriamo sia poi concluso con una valorizzazione ad Ascea nella città di Velia di questo lavoro.